Il geranio è una pianta perenne originale del Sudafrica, molto amata grazie alle sue abbondanti fioriture colorate. È una pianta resistente, ma per rifiorire ogni anno ha bisogno di cure e attenzioni. I gerani hanno un portamento cespulloso con abbondanti fioriture a ombrello che sbocciano dalla primavera all'autunno. Ne esistono più di 250 specie differenti per dimensioni e colore dei fiori. È una pianta da pieno sole che può tollerare una lieve penombra. I gerani amano le temperature miti e vanno portati al riparo quando le temperature scendono sotto i 10 gradi. Ogni primavera il geranio va rinvasato e arricchito con un nuovo terriccio specifico per gerani. Fondamentale è la presenza di argilla espansa per assorbire l'acqua e garantire una buona reazione delle radici. Il geranio richiede un costante e abbondante apporto d'acqua, soprattutto d'estate, quando il terriccio asciuga più rapidamente. Bagnare preferibilmente nelle ore serali più fresche. È consigliabile concimare una volta alla settimana nel periodo di fioritura, per poi sospendere completamente da novembre a febbraio. Usate un concime specifico per gerani ricco di ferro. L'alto contenuto di ferro facilita la fotosintesi e impedisce l'ingiallimento delle foglie. In inverno i gerani devono essere protetti dal gelo. Togliete i rami secchi e potate drasticamente. Col tempo i rami sono meno compatti e previ di ramificazioni. Una potatura vi aiuterà a ricrescere migliori nella prossima primavera. Grazie.